C'è una realtà artigianale, con le persone che si sono dedicate tantissimo a questa cosa e si sono sporcate le mani e così l'abbiamo fatto noi. Questo comunque è il designer. Normalmente il designer viene visto come colui che fa uno schizzo dopodiché non si interessa più del prodotto. La collaborazione con Foscarini e con questi artigiani è stata preziosissima. Ci ha consentito di raggiungere il risultato. Solo noi non ce l'avremmo mai fatta. Questo qua è stato un po' l'oggetto ispiratore del progetto. È un po' l'oggetto simbolo del muratore, diciamo così, il piombo, da cui poi prende anche il nome la lampada, la plomb. Quindi nella sua accezione letterale rimane perfettamente a piombo, grazie al suo peso, grazie alla sua forma, è perfettamente perpendicolare al pavimento. Però c'è anche una valenza più figurativa. A plomb significa sicuro di sé, quindi è un oggetto che non ha nulla da dimostrare se non quello che è. Per cui ci piaceva questa idea di un oggetto minimale, pulito, staticamente perfetto, che dichiarasse esplicitamente il suo materiale. Il progetto Aplomb nasce dall'utilizzo di un materiale alternativo, in questo caso parliamo di cemento. La grossa difficoltà è stata quella di adattare questo materiale, che normalmente viene utilizzato per grossi pezzi, pezzi da cantiere normalmente, a un pezzo invece molto delicato, molto semplice, piccolo, con spessori molto ridotti. Il cuore del progetto è stato proprio questo salto di scala. Qui abbiamo voluto fare un gioiellino in cemento, diciamo così. In realtà dietro la parola cemento c'è un mondo molto vasto, che include cementi teneri, cementi più strutturali, cementi più materici, meno materici, caricati, non caricati, eccetera. Quindi trovare il giusto equilibrio, la giusta miscela per ottenere le caratteristiche che volevamo è stato molto complicato e ci sono voluti un paio d'anni per giungere a questo punto. Qui c'è solo una minima parte di tutte le prove che abbiamo fatto. Sono state possibili grazie a un paziente lavoro artigianale. Ecco, questa qui è la miscela che è stata utilizzata per fare la lampada plomb e questi sono i pigmenti che sono stati utilizzati per arrivare alle diverse colorazioni. Qui c'è un esempio di prove colore che abbiamo fatto quasi come fossimo in un laboratorio per arrivare alla gradazione di marrone che volevamo. Il processo per arrivare al prodotto finito parte dai nostri disegni. C'è uno stampo, viene collato il materiale in un certo modo liquido e dopodiché viene disarmato, viene estratto ed eventualmente finito. Si vede soprattutto qui che è il punto critico della lampada. Il colletto è molto stretto, in 20 mm ci passa la struttura, ci passa il cavo, ci passa tutto. Il cemento è veramente una sorta di pelle che ricopre la struttura interna. Una delle difficoltà maggiori nel realizzare il corpo fondamentale che è questo qui in cemento della lampada era trovare un compromesso industriale della superficie del cemento. Questo perché volevamo ottenere un oggetto che fosse appunto industriale, quindi riproducibile. volevamo che venisse fuori l'artigianalità del pezzo, che venisse fuori il lavoro manuale che avviene su questo pezzo. Per cui c'è stato tutto uno studio su quella che doveva essere la rugosità, la porosità. Sì, in realtà le finiture che abbiamo scelto sono tre. Il grigio non poteva mancare, nel senso che è il colore simbolo un po' del cemento, perché rimanda a tutto il mondo architetturale, in cui il cemento faccia vista è l'argomento estetico predominante. Quindi il grigio ci doveva essere. Secondariamente abbiamo voluto farne una bianca, per ambienti più raffinati, più... E per terzo colore, qui non ce n'è uno che rispecchia perfettamente quello che sarà in produzione, comunque sarà marrone, ed è un colore che abbiamo voluto perché possa abbinarsi a ambienti più caldi, come bistro, piuttosto che ristoranti o quant'altro. L'idea che inizialmente avevamo di aplomb era quella di avere un oggetto piccolo che ci desse la possibilità di creare diverse composizioni luminose ed estetiche, quindi. La nostra volontà era quella di creare un fascio di luce molto semplice che potesse essere replicato più volte a seconda appunto di come vengono disposte le lampade. Quindi possiamo avere, nel caso della lampada singola, un classico occhio di bue, nel caso di una composizione lineare potremmo illuminare un tavolo molto lungo, un bancone, qualcosa di questo tipo, e quindi creare una luce abbastanza uniforme su tutto il piano. Nel caso in cui avessimo una composizione regolare, quindi spaziale, magari con diversi aplomb disposte in modo concentrico, allargare molto il fascio di luce che arriva sul piano. In questo senso è una lampada molto versatile. Abbiamo creato una lampada modulo. Grazie a questo possiamo moltiplicarla quanto vogliamo e possiamo creare anche una sorta di setto, no? Disegniamo lo spazio in un certo senso. Grazie a tutti.